Nei giorni scorsi, in centro a Rovigo, un uomo senza fissa dimora di nazionalità italiana, quasi trentenne, è uscito da una profumeria rubando cosmetici per un valore di circa 300 euro. La commessa, resasi conto dell'uomo che stava uscendo col maltolto, è iniziato a urlare, attirando l'attenzione di un agente operativo della questura di Rovigo, in quel momento non in servizio. Sentite le urla senza esitare, l'agente ha rincorso il malvivente, bloccandolo e recuperando il bottino subito restituito al negozio da cui era stato sottratto. Dopo gli accertamenti di rito, l'uomo è stato denunciato in stato di libertà per furto. Passa all'Indiga, a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità, per deliziare il tuo palato. Indiga, a sottomarina, ti aspetta?